e pura vita ragazzi benvenuti nuovamente su metal gear rising continuiamo dove l'abbiamo lasciato nell'ultimo capitolo capitolo dove siamo entrati nel labo siamo entrati nelle fogne siamo arrivati qua nel laboratorio sappiamo che stanno sperimentando con bambini dobbiamo salvarli andiamo abbiamo qua affrontato un piccolo boss un caro armato che le ha prese non tanto quanto noi ma le ha prese anche lui avrei dovuto investigare di là prima vero no no vieni qua dove sei non gli avrei dato un euro a quest'arma però non è male tutto sommato che c'è si il vento soffia la pioggia cade che cazzo stai dicendo che cazzo vuol dire scusami vabbè grazie eh ma ci saranno altri boss qui non credo in teoria è qui boccia ma quel non è george george no taglia vecchio taglia il vetro tronzo perché si eh chiaro ma perché non sto tagliando il vetro meglio uno salva gli altri dai devo scegliere io ma il cane dov'è in tutto ciò in tutto ciò c'è capito no vai 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 fallo morto bene 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 avessimo avuto la spada di gestream sam con il grilletto ci avremmo messo meno molto più danno noi abbiamo 130 di vita non male siamo tornati in america sì e poi c'è una domanda dove il cane che vuoi c'è Non c'è nulla, 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 non c'è nulla E' perché le livello di l'acqua d'acqua di l'acqua è mantenuto automaticamente, si tratta di un caffè Oh, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla Scusi, figlio, tu è solo in fronte Inoltre, ho pensato che non vuoi essere un uccionista, certo? Non, ma... Beh... Vai lì e difendi la gente, eh? Ah, bambino, bambino Che sto impazzendo? C'ha un braccio meccanico, mi sa che gliel'abbiamo tagliato noi quel braccetto Ce l'aveva prima Ostia Sono un po' infasteriti Non c'è nulla Non c'è nulla C'è nulla Non c'è nulla Non c'è nulla C'è nulla C'è nulla C'è nulla Ostia Ostia Beh, siamo dall'altra parte Era quello l'obiettivo Vi devo ammazzare tutti, vero? Va bene Va bene Lo farò Non c'è nulla Non c'è nulla 18-3-104-7 Perfetto 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 Il solito imbecille Scusa, arrivo subito Perfetto 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 Apri di nuovo Vai T'ho visto Granata di frammentazione E c'è Sì Dai non rompere il cazzo C'è un'attrocità dopo l'altra Hmm C'è quello che hai avuto Non abbiamo più di Jack the Ripper Vedi cosa succede con George? Sto facendo questo, Boris Sto facendo Non posso salvare i bambini da diventare ciborgi Ma potrei farlo da diventare ciborgi Quindi ti succedi Quindi ti arrivi tutti i cervelli? Quindi cosa? C'è proprio che conosco un grande cibernetico Doctore? Ma non può Sì che può Dai Boris cazzo Sì 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 Maverick Inc. condensi E voi Maverick 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 Dai cazzo Dai cazzo Bucchette Dai vai 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 così cazzo Li as boutique Sì Vi as patti Li as patti Người Gai Mi Vieni. Ma chi è che spara? Sparite? Zitto Perché c'è una scatola da Perché questo si era in nascosto qui? C'è un meme dentro il gioco? Vai Taglio un po' di parti ragazzi quindi andiamo un po' più avanti ancora C'è una scatola? C'è una scatola da Certo No! C'è una scatola? C'è una scatola da qua? E' un'altra bellissima manina sinistra C'è una scatola da qua? Posso tagliare qua? No Ora Chi è questo? No, scusami, brother Ragazzi Ragazzi Sì Sì Certo che sì Ma Quello che vola vorrei Adesso io e te possiamo parlare No, no, eh, due adesso Adesso addirittura Vieni qua Vieni qua Vieni qua E vaffanculo Brutta Brutta questa Dai Dai Forza Forza Chi c'è adesso? Allora Allora Questo per me Vieni qua Vieni qua aspetta che vediamo se questo qua riusciamo a fargli un saluto da subito eccolo qua dai defendi team ciao ben atterrato grazie va bene mollami meno male che non abbiamo paura del danno di caduta meno male si bello non vedere un cazzo questa città era un grande rupto di transporte nei primi anni di treni questa linea sembra essere abbandonata qualche tempo fa era originally construito per trasportare suprie a una fabbrica ma ora sembra che anche il sistema elettrico non funziona si 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 come un cibo credo che questo non è un problema serio penso che un po' si sai non vedo un cazzo ma meno male che abbiamo sta vista qua almeno da qua riusciamo a vedere qualcosa perché senza impossible non esporti non esporti non esporti non esporti Grazie a tutti. 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 Esatto. Esatto. Più o meno. Tutto. Grazie a tutti. Muori lo stesso. Ammazzali. e basta. Perché ci stiamo. facendo pestare? Lo giocare? Grazie a tutti. Posso gestire. cosa fare? posso gestire? guarda? 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 come passa tutto. guarda? a posto, Sam, guarda? 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 guarda?